Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Allora le chiedo, intanto perché lei l'ascolterà oggi al Senato e so che dovrà intervenire, su questo che cosa direbbe sulla logica del pacchetto? Allora, io sono un grande tifoso della logica del pacchetto, l'ho utilizzato in varie occasioni in Italia e in sede comunitaria. La logica del pacchetto consiste nel unire vari temi distinti ma che potrebbero generare un interesse comune a trovare una soluzione globale ma devono essere elementi che sono nel presente al tavolo o a diversi tavoli delle trattative. devono essere non elementi già chiusi e non dico sepolti ma definiti. Ora, una modifica di questa riforma del MES che è già stata approvata da tutti i paesi, Italia compresa, e ratificata da tutti gli altri paesi, vorrebbe dire riaprire il negoziato su una cosa già definita, riandare in tutti gli altri parlamenti, eccetera. Questo è poco e per il futuro seminerebbe un'ulteriore incertezza nell'Unione Europea perché una volta firmato un importante trattato, in futuro si direbbe sai cosa, magari poi verrà invocato il Meloni President. E sì, l'altra cosa che vorrei dire, e quindi pacchetto sì, fanno benissimo a unire... Però fare attenzione perché c'è qualcosa che non fa parte nemmeno del pacchetto in realtà... Esattamente, l'altra cosa più psicologica e politica, io li capisco i sovranisti perché hanno lasciato tutto, rispetto alle posizioni pensiamo di Salvini, Di Maio e Conte nel 2018, hanno lasciato tutto. Il MES è una specie di calcolo renale che è rimasto nel corpo del pensiero sovranista e si fa fatica a espellere un calcolo e forse non vogliono rinunciare a quel simbolo che richiama a loro un passato... Insomma, MES potrebbe anche voler dire mi ero sbagliato, sarebbe sdrammatizzante dire mi ero sbagliato. Dove passa Monti non cresce più l'erba. Ma io voglio solo contribuire alla soluzione di questo problema. Cioè, pacchetto sì, ma togliamo il MES da questo. No, pacchetto sì, di che cosa è pacchettabile. Ma il PNRR, le faccio questa domanda telegrafica che dobbiamo purtroppo chiudere, e non stanno uscendo anche tante notizie, ma il PNRR è pacchettabile. Il PNRR penso di sì. Nel senso, la terza rata è vero che c'è un gioco politico che l'Europa può usare? Sinceramente non lo so che margini di discrezionalità ci siano, questo sinceramente non lo so. Però, ecco, se non altro, per definizione non è una cosa già passata in giudicato. Certo, cioè lì c'è uno spazio di negoziato. Come dire, mettiamo nel pacchetto la mummia di Tutankhamen e cambiamo una decorazione. Questo è previsto, certamente, però bisogna anche che il governo poi le presenti queste richieste di modifica. Mi pare che lì c'è un'attesa che questo accada e non è ancora avvenuto. Allora, ha detto anche Giorgia Meloni, puntiamo a un fondo europeo per la sovranità. La Commissione Europea ha presentato il 20 giugno una piattaforma STEP per semplificare le procedure che concede flessibilità per i settori strategici. Le parole d'ordine ci sono tutte, austerità, flessibilità, però mi pare che provi anche a mantenere sovranità.